Buongiorno, sono Laura Antichi, vi voglio presentare un semplice registratore online che si chiama Sodaphonic dal sito sodaphonic.com si può accedere al servizio della piattaforma anche senza registrazione tuttavia per condividere bisogna invece registrarsi l'interfaccia come vedete è molto pulita e semplice poi cliccheremo magari su Start a New Project per editare il nostro nuovo file mp3 andiamo a vedere alcune cose quindi dice che si può registrare direttamente dal web browser ci sono comunque delle opzioni semplici di editing e soprattutto Try the New Chrome Extension andiamo a scaricare l'estensione per Chrome se navighiamo con Chrome quindi ci porta direttamente al Chrome Web Store Sodaphonic aggiungi mi dice se voglio che Sodaphonic può leggere e modificare tutti i dati sui siti web visitati e aggiungi estensioni ok vedete che l'estensione è stata aggiunta a Chrome ma adesso la voglio rendere visibile nella barra di navigazione in alto vado nell'icona delle estensioni questa icona è una sorta di puzzle clicco su di essa e vado a cercare innanzitutto l'estensione che è Sodaphonic e la vado quindi a bloccare in maniera tale che mi compaia nella barra in alto quindi blocca e vedete che l'estensione mi è comparsa ok ritorniamo quindi al nostro Sodaphonic e andiamo a cliccare su Start New Project abbiamo due possibilità o di aprire un file audio già fatto dal nostro computer dal nostro quindi browser e supporta i file mp3 OGE e WAV oppure posso registrare direttamente un file audio vado comunque a fare a uploadarlo dal mio computer come prima opzione Open e vado a scegliere un file mp3 dal mio computer scelgo questo vedete che me l'ha quindi uploadato mantenendo tutte e due le tracce era un file con due tracce andiamo ora ad esplorare che cosa si può fare innanzitutto in file posso aprirne un altro Open da Dropbox Drive posso salvarlo in Sodaphonic posso esportarlo e condividerlo in Edit posso quindi utilizzare alcune funzioni abbastanza interessanti che sono ad esempio il Cut e il Trim selezionando ad esempio voglio togliere questa parte vado in Edit, faccio Cut e vedete che mi ha tolto la parte che ho selezionata del file posso mettere degli effetti ad esempio un Fade In all'inizio seleziono selezioniamo fin qua e quindi faccio Fade In e vedete che mi ha modificato il mio file alla fine posso anche sempre selezionando la porzione di file fare un Fade Out vedete che mi ha ridotto in modo da finire in nulla l'audio ecco poi posso aggiungere ad esempio un esempio che seleziono qui tra i effetti un Blip It ok e se ok vedete che questo è il Blip It se poi vado a sentire questo file con Play ecco questo sito vedete che mi ha messo il Blip potrei anche l'oralità come una funzione dell'equilibrio stop potrei metterlo anche in un'altra posizione il Blip qui e quindi Effect Blip It ok un piccolo Blip per interrompere ad esempio un audio e andiamo a sentirlo quel Play vedete ecco che l'ha inserito ecco stop andiamo sempre all'inizio e quindi molto facilmente è possibile aggiungere dei semplici effetti louder quieter silent normalize eccetera e posso anche con il reverse ad esempio guardate se io ora nel Effect metto il reverse vedete che mi ha invertito questa porzione di di file audio posso poi andare in share dovrò mettere il titolo del del mio ad esempio prova share perché sono registrata quindi mi darà un indirizzo che copierò che copierò nella mia quindi clipboard il file questo file lo posso esportare me lo esporterà metterò sempre un nome prova di oggi 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 in mp3 oppure in wave e lo ritroverò con il save in download perché in download oppure in dropbox che è collegato con dropbox andiamo va bene lasciamo perdere questo file andiamo ora a registrare direttamente dall'applicazione vado ora in start a new project e start a new project questo quindi file new ecco e perché quindi vado a recording record sometime something new record ecco mi da il via la volpe e l'uva una volpe affamata arrivò davanti a una pergola carica di uva fece molti tentativi con balzi e rincorse ma l'uva era troppo in alto e non riuscì a mangiarne non è matura borbottò acerba non mi va e se ne andò questa favola fabula di fedro ci insegna che non bisogna giustificare le proprie incapacità rinunciando a raggiungere i propri obiettivi perché non arriviamo a completare la nostra crescita personale stop ok vedete quindi il che ho registrato andiamo a quindi a sentire la registrazione la volpe e l'uva una volpe affamata arrivò davanti a una pergola carica di uva ecco che faccio stop ecco ritorno all'inizio e posso utilizzare anche qui le solite innanzitutto posso esportare il mio file condividerlo e share oppure posso editarlo utilizzando ad esempio il delete se voglio togliere dei pezzi della registrazione o inserire degli effetti come abbiamo visto prima del fade in, del fade out e gli altri e il bleepit e così via ecco vedete che comunque sia nell'un caso che nell'altro è presente un'ottima base di barra di navigazione che permette lo stop, il record, il play, il pause, il start, il rewind, il forward, l'end, anche lo zoom in e lo zoom out ecco arrivederci ecco 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 Grazie.